A Rezzo presto un nuovo assessore alla cultura, tanti i temi da affrontare dalla fortezza all'antiquaria. Gli esercizi commerciali di Camucia e Cortona aderiscono alla campagna del FAI per il restauro del Santuario del Calcinaio. Aperta da oggi la vendita dei biglietti per la giostra di settembre, tribune esaurite in mattinata. Le pellicole della Potipicture sul palco della Gazzi Summerfest per presentare a tutto cinema. Lega Pro, ecco i calendari, debutto con il Sant'Arcangelo per l'Arezzo, intanto Capuano archivia l'amichevole con il Tegoleto. Buonasera a tutti voi, benvenuti al nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. Cominciamo parlando di cronaca. Un evento drammatico, quello che si è consumato questa mattina al centro commerciale Sette Ponti di Arezzo. Una signora di 63 anni, LG Le Iniziali, è morta per un arresto cardiaco improvviso. Inutili i soccorsi dei sanitari, accorsi sul luogo. La donna, residente a Marciano della Chiana, non ce l'ha fatta. Gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso. Rimaniamo sulla cronaca. Incidente stradale questa mattina a Badia Alpino. Alle 10.20 si sono scontrati in Via dei Laghi un SUV e una moto. Nell'impatto è rimasto ferito un signore di 66 anni che ha riportato un trauma cranico, non commottivo e un trauma toracico. L'uomo di Arezzo è stato soccorso dal 118 e trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Lescott di Siena, dove è stato ricoverato in codice giallo. Voltiamo pagina, parliamo del comune di Arezzo. Presto sarà nominato un nuovo assessore alla cultura. Tanti temi da affrontare dalla fortezza alla fiera antiquaria. Sentiamo i dettagli nel nostro servizio. All'indomani della presentazione della nuova giunta comunale di Arezzo, non pochi sono rimasti sorpresi dalla volontà del neosindaco di mantenersi insieme all'urbanistica, polizia municipale e salute, anche la delega alla cultura. Un incarico da intendersi ad interim, certo, anche solo per la grande mole di lavoro che ha tra le mani il primo cittadino. Bene, adesso, con l'estate agli sgoccioli, sembrerebbe essere arrivato anche il tempo per un nuovo assessore, che dovrebbe essere annunciato fra non troppi giorni. Tra bilanci ristretti e sfide importanti, il suo compito non sarà certo facile, a partire dalla richiesta di residenti e categorie economiche per rilanciare la parte alta del centro storico aretino, con piazza grande troppo spesso relegata al ruolo di Cenerentola. I progetti sono tanti, dal Museo dell'Oro alla valorizzazione del Palazzo di Fraternita, fino addirittura alla realizzazione, condivisibile ma di assai difficile compimento, di una succursale degli uffizi, proprio tra gli archi progettati da Giorgio Vasari. Poi ci sono le tante opere da valorizzare di Piero della Francesca, Cimabue, Vasari e della Robbia, solo per citarne alcuni, con il grande interrogativo legato al futuro della fortezza Medicea. Certo, ciò che emerge dagli scavi è un tesoro prezioso, ma il punto dolente sarà capire come rendere economicamente sostenibile la gestione dell'area, che dovrebbe offrire anche nuovi spazi per gli eventi. Già gli eventi, questo è un altro dei grandi temi che da sempre animano discussioni su discussioni, su modalità e collocazioni, non ultimo i castica, ma anche l'eterno tormentone su Arezzo Wave, sui cinema che chiudono, sulla gestione del nuovo Teatro Petrarca e del Teatro Tenda, ancora praticamente inutilizzato. Poi ci sono la Fiera dell'Antiquariato e il Polifonico, che soffrono di una lunga crisi. Intanto, a ottobre, arriverà nella ex chiesa di San Sebastiano un nuovo spazio espositivo dedicato all'Antiquariato. Peccato che per uno spazio che ritrova dignità ce n'è un altro a pochi metri che segna il passo. La soprintendenza non c'è più. Sarà difficile, anche se noi ci speriamo, che il nuovo assessore riuscirà a colmare questo vuoto che pare incolmabile. Farneta è solo una farneticazione. Usa un gioco di parole il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, per dire la sua sulla questione della stazione Medio Etruria per la linea dell'alta velocità. Ieri erano intervenuti l'amministrazione comunale di Cortona e il comitato pendolari città di Arezzo. Quest'ultimo ha criticato duramente l'opzione di Farneta in pole position insieme a Ristradella a Rigutino. La localizzazione della stazione è ancora in corso di definizione da parte degli enti territoriali in base a quanto emergerà dal tavolo tecnico interregionale. Sull'opzione di Farneta nel Cortonese, Ghinelli commenta Non so chi abbia messo in giro tale notizia, ma mi pare quella meno plausibile. La scelta verrebbe meno al prerequisito dell'intermodalità ferro-ferro per i pendolari. Se tuttavia il tavolo tecnico dovesse dare credito a tale ipotesi, conclude Ghinelli, darà corso con celerità alla convocazione urgente di un incontro sul tema al quale invitare tutti i soggetti interessati. Voltiamo pagina, ma restiamo in Baldichiana. Gli esercizi commerciali di Camucia e Cortona aderiscono alla campagna del FAI per il restauro del Santuario del Calcinaio. Sentiamo. È un monumento rinascimentale di Cortona dal grande potenziale di attrattività turistica, dimenticato tuttavia per quanto riguarda la cura e il restauro. Stiamo parlando del Santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, una chiesa sulla quale è riacceso i riflettori di recente il Fondo Ambiente Italiano. Adesso, a sostenere la raccolta fondi per riportare al suo antico splendore il monumento cortonese, si è aggiunta la collaborazione delle associazioni commerciali del territorio, Confcommercio e Confesercenti, che hanno deciso di mettere all'interno degli esercenti di Camucia e Cortona, aderenti al progetto, delle scatole a disposizione dei clienti che volessero lasciare delle offerte a supporto del restauro. Come Confcommercio abbiamo aderito con grande piacere a questo invito del FAI e degli amici del Calcinaio. Il nostro impegno è quello appunto di invitare tutti i negozi, i locali di Cortona e di Camucia a raccogliere fondi per ristrutturare quella che riteniamo il più importante monumento di Cortona. L'invito agli operatori, come Confesercenti, come categorie del commercio noi diamo, è quello di ospitare presso il loro negozio queste scatole e invitare i turisti residenti a dare un piccolo contributo per poi intervenire nella salvaguardia di questo importante monumento. Non solo, a questo si aggiunge la proposta lanciata dal responsabile del santuario, Don Ottorino Cosimi, di far rientrare la chiesa tra quelle dell'anno della misericordia indetto da Papa Francesco, un'idea che è subito piaciuta a Monsignor Riccardo Fontana. È rimasto un po' isolato il Calcinaio, nonostante la valenza turistica e quindi anche economica che ha per Cortona, è rimasto un po' dimenticato. Noi già da tempo, da anni, ci stiamo preparando, ci stiamo attrezzando per l'accoglienza dei turisti. Abbiamo preparato una fermata per i pullman, stiamo preparando le sale, i bagni, i piazzali d'accoglienza e cercheremo anche con l'aiuto dell'Università degli Americani a Cortona di restaurare al meglio le adiacenze e rendere visibile il perimetro, insomma, far dire al Calcinaio tutta la bellezza che può esprimere da quando è nato, fino ai nostri giorni, in maniera rinnovata. Non solo per questo, abbiamo chiesto al Vescovo, siccome la chiesa è dedicata alla Madonna della Misericordia, di farne una delle chiese dell'anno della misericordia, dove si faranno le pratiche per l'acquisto dell'indulgenza. Il Vescovo è stato molto soddisfatto e credo che stia pensando anche lui a darci una mano. Sono in arrivo nuove abitazioni provvisorie in Toscana da destinarsi alla prima accoglienza dei cittadini profughi. Con una delibera approvata ieri in giunta, la Regione potenzia il sistema di accoglienza anticipando allo Stato risorse per un importo complessivo di 290 mila euro circa, che saranno destinati all'acquisto di una serie di moduli abitativi provvisori che permetterà di evitare l'accoglienza in hotel. Gli alloggi acquistati saranno in futuro a disposizione in caso di eventuali emergenze di protezione civile. Tutto ebbe inizio nel 1955 con l'intuizione di William Monci che riuscì a creare una compagine musicale che rappresentasse il comune di Arezzo anche fuori dai propri confini. Ricorre quest'anno il sessantesimo anniversario del gruppo musici della Giostra del Saracino per celebrare l'importante traguardo. È stata organizzata una serie di eventi tra cui la mostra fotografica 60 sfumature di musici da 60 anni la voce della Giostra che sarà inaugurata domani alle 17 sotto le loggie Vasari. Poi la presentazione di un drappo celebrativo e l'annullamento di una cartolina filatelica ed una conferenza dedicata alla musica medievale in calendario il 12 settembre alle 17.30 presso l'auditorium Aldo Ducci. In occasione della Giostra del 6 settembre inoltre il gruppo saluterà il pubblico di Piazza Grande soffermandosi qualche minuto in più sulla lizza ringraziando così la città per il suo affetto. Continuiamo a parlare di Saracino. È stata aperta oggi la vendita dei biglietti per la Giostra di settembre e già le tribune sono esaurite. È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il 6 settembre prossimo e gli aretini non hanno mancato di confermare il loro caloroso spirito giostresco. Questa mattina infatti una coda di circa 250 persone dopo solo poche ore dall'apertura della biglietteria di via Bicchieraia ha fatto registrare il tutto esaurito per i posti in tribuna di Piazza Grande. Al momento sono già terminati tutti quanti i biglietti a sedere nelle tribune resta la disponibilità dei biglietti in piedi che saranno in vendita qui alla biglietteria di Bicchieraia e all'informa giovani della città. Da lunedì sono in partenza la vendita anche dei biglietti per la prova generale e la prova generale è bene sottolineare che si vende solo ed esclusivamente alla biglietteria di Bicchieraia. Come ormai consuetudine il primo a presentarsi al botteghino dopo ore di estenuante attesa di fronte alle porte del teatro Pietro Aretino ha ricevuto un biglietto omaggio. La fila è partita dalle 7 a un quarto della mattina di ieri Leonardo che è questo 17enne un appartenente a Porta Crucifera ha praticamente fatto questa bella tirata è stato sostenuto dagli amici dai compagni che durante il giorno e la notte gli hanno dato qualche cambio hanno portato delle provviste e lui si è aggiudicato questo biglietto che l'ha testata a retina voluta da Gino Perticai da tempo ha ufficializzato che è un biglietto omaggio per il primo che praticamente acquista il biglietto. È stata una bella soddisfazione ho passato una bella notte lunga ma non solo una notte anche il giorno prima però mi sono divertito e penso di rimettarmelo il biglietto offerto. Io non vado a vedere la ciostra perché mi vesto da figurante quindi lo regalo a mio amico. E come per l'edizione dello scorso giugno tutti gli spettatori della giostra avranno diritto all'ingresso a costo ridotto all'esposizione le bevande coloniali argenti e salotti del 700 italiano tè, caffè e cioccolato aperta fino al 31 ottobre nei locali della Basilica di San Francesco. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'istituzione giostra e le due società Mosaico e Munus concessionare dei servizi museali della Basilica. Le pellicole della Poti Pictures sono salite sul palco del Lagazzi Summer Fest per presentare a tutto cinema il servizio. Esprimersi farsi sentire in questo modo la disabilità può iniziare ad essere vista come una condizione sociale non da curare ma da integrare. È questa la mission della Poti Pictures casa cinematografica retina che da anni attraverso lo strumento del cinema opera a favore dell'inclusione di persone con disabilità. Continua l'attività dello staff diretto dal regista Daniele Bonarini impegnato nella promozione della nuova avventura intitolata a tutto cinema al centro di una delle serate di anteprima del Lagazzi Summer Fest. Si tratta di un vero e proprio laboratorio cinematografico finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio pensato per una classe di alunni delle elementari e sviluppato insieme a ragazzi con disabilità per un percorso unico nel suo genere. Abbiamo cercato di spostare l'asse del cortometraggio cioè l'importanza del prodotto al making of questo è credo che sia proprio la matrice della Poti Pictures cioè il making of il percorso di inclusione con questi nostri sei ragazzi dare un riconoscimento a loro per quello che fanno e reintegrarli in una società piena con una busta paga come attori e girare il mondo per questo penso che sia il massimo che si possa chiedere. A tutto cinema ha deciso di puntare sulla formula del microfinanziamento collettivo per raccogliere i fondi necessari a coprire le spese di produzione. Di questo aspetto si occupa Mecenap prima piattaforma di crowdfunding della Toscana intanto prosegue la festa del Lagazzi Summerfest che oltre all'innovativa proposta del Bike Park è pronta ad offrire da venerdì 28 a domenica 30 agosto la musica delle migliori band nazionali e locali indie rock Anthony Laszlo Valeria Swing Tony La Muerte tre nomi punk blues rock quindi pieni e carichi di energia che è quello che ci vuole e poi i surfing monkeys sencro drawing the end jolly confusion sbaccando il lunario insomma tanti nomi del panorama aretino mille contestazioni per eccesso di velocità tre patenti ritirate ed un totale di 1800 punti decurtati è il risultato dei serrati controlli estivi della polizia stradale di Arezzo nell'ultima settimana particolare attenzione è stata riservata al tratto autostradale della 1 con l'impiego di autovelox in occasione del controesodo estivo che ha visto un ulteriore aumento del traffico Lega Pro sono usciti i calendari il debutto dell'Arezzo con il Sant'Arcangelo intanto Capuano archivia l'amichevole di ieri sera con il Tegoleto vediamo comincerà con una trasferta in Emilia Romagna l'avventura dell'Arezzo nel prossimo campionato 2015-2016 e ad attendere gli uomini di Mister Capuano sarà in una gara inedita il Sant'Arcangelo il match con la squadra riminese dovrebbe disputarsi sabato 5 settembre così da evitare la concomitanza con la giostra del Saracino presentati dunque i calendari della Lega Pro con un cammino quello del gruppo B che prevede numerosi derby con le altre sorelle toscane tra le gare più attese quella con il Pisa di Gennaro Gattuso in programma la quarta giornata al città di Arezzo e la sfida con la Robur Siena fissata il prossimo 22 novembre intanto l'US Arezzo può archiviare un altro test del periodo di preparazione estiva l'amichevole con il Tegoleto è terminata 9 a 1 in favore dell'Arezzo ma quella andata in scena allo stadio di Badialpino è stata una gara che nella prima frazione di gioco ha visto i padroni di casa a tenere testa agli uomini di Capuano con il tecnico salernitano soddisfatto della squadra è una squadra che crea tantissimo cerca sempre l'aggressione alta non rincula mai attacca tenendo la linea sempre alta quindi sono molto contento buona la prestazione dell'ultimo arrivato l'attaccante Edoardo Defendi autore di due gol nella partita con i Biancorossi che motiva così la scelta di una piazza come quella retina avevo la testa piena come un uovo perché comunque mi hanno cercato tante squadre nel momento in cui ero in uscita da Brescia e quindi mi sono detto quando passano i pensieri faccio una scelta distinto e ho fatto questo a ben figurare è stato anche l'altro attaccante Edoardo Ceria che sembra aver instaurato un buon feeling con Capuano mister così mi piace molto duro è importante sa quello che vuole come sappiamo noi e credo che con questo spirito qua che sembra cattivo da fuori ma invece c'è una carica devastante dentro e andremo lontano Infine buon debutto anche per Mario Pugliese su di lui Capuano aveva detto è il miglior centrocampista classe 96 d'Italia Mezzala di corsa di grinta e cerco di metterci anche un po' di tecnica però comunque le mie qualità sono la corsa e la duttilità comunque Sabato pomeriggio di nuovo in campo contro il Prato una partita particolarmente allettante visto che entrambe le formazioni sono state inserite nel girone B e saranno quindi avversarie nel corso della stagione fischio d'inizio alle 17 ancora allo sport intraprenderemo le vie legali per veder riconosciuto il nostro diritto a gestire l'impianto sportivo nell'interesse degli oltre 250 atleti che vestono la nostra storica maglia così il Vasari Rugby ribatte alla nota stampa diffusa a ieri dall'Arezzo Rugby Football Club che ha ricevuto dal comune di Arezzo l'assegnazione dell'impianto in via dell'Acropoli la causa starebbe in irregolarità insanabili riscontrate dai dirigenti comunali nella documentazione presentata dal Vasari l'inesattezza rilevata dai dirigenti del comune conferma la società riguarda un'erronea dichiarazione resa con autocertificazione dal presidente Francesco Santini e da lui rilasciata in totale buona fede in alcun modo inerente alla sostanza del progetto presentato dalla nostra società progetto risultato di gran lunga il migliore tra quelli presentati al bando di gara come certificato dalla commissione di gara stessa proprio per questo il Vasari procederà per vie legali per continuare a gestire l'impianto nel caso in cui i dirigenti comunali confermassero invece la scelta fatta la società sarebbe grata di accettare la proposta dell'FC Arezzo che si è detto disponibile ad ospitare il Vasari Rugby con tutte le sue formazioni dall'Under 6 all'Under 18 per finire alla prima squadra e con questo è tutto per l'edizione di questa sera di TSD Notizie vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata su TSD Grazie a tutti